è bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su gta 5 online oggi siamo in una nuova cattura creata da stefi dj e siamo in attività con il mitico powerkmods il mitico suino allora che macchina prendiamo ragazzi ora mi stanno a fregare tutte le macchina facciamo questo sali su senza paura sali su questo trax allora guarda che traffico che c'è allora dobbiamo consegnare occhio sbibi resta fa lì pipito diamo qua solo un parco rico praticamente yes mamma mia c'era uno dietro che stava da 2000 dal tamo metrolla invece no allora giriamo qua perfetto e l'osce squadra avversaria vanno dietro al liano spero che non metrolla manco questo mozzissimo guardate che escono le foglie da sta gomma le foglie è buggato proprio avete visto rega le foglie allora qua facciamo un'altra manovra guardate eh va 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 le foglie madre mia sei buggato allora andiamo avanti col parkour cattura ah no si incastra allora francescone ha un suino prendo francescone giriamo di qua giriamo di là ok forkmods ha consegnato è la mia squadra quindi ah no l'hanno consegnato anche di là due di là dove devo consegnare a destra mi sembra usuuu che sta a far sochino a piedi boh ah sta andando a fare un po' di acazzotti ho capito ho capito andiamo qua a consegnare poi vado a fare acazzotti pure io rega o l'hai consegnato 3 a 2 no facile la consegna e niente spero che ho preso il paracadute così mi ammazzo subito vediamo oh 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 perfetto andiamo prima a consegnare un altro veicolo rega o facciamo a cazzotti no lo so vediamo io farei anche a cazzotti non c'è problema e vent'anni a caricare c'è un bmx oh stefi oh stefi madre mia adesso lo trovo oh stefi lavoro di squadra oh sui madre mi ha buttato giù stefi e il suido l'ha finito ok ok ottimo ottimo lavoro di squadra qua allora allora vieni qua sui c'è un pipito qua oh pipì no questa è stata la mia squadra no stefi madre mia stefi ora mia stefi è mio è mio è mio è mio dove vai no 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 scappa ma io non cabina ora sto scappando oh no no madre mia stefi ho detto finisce a cazzotti non muore non muore non muore voglio uccidere un suino non riesco cosa lag vabbè dai andiamo a consegnare un altro veicolo Francescone come andiamo Francescone vai giù Francescone che è stata la mia squadra povero Francescone l'ho trollato ok andiamo avanti dai povero Francescone l'ho trollato poi Francescone è mio grandissimo amico regà oh 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 ma che dite se facciamo così no dai non trogliare su ecco aspetta pepi come trolla pipito come ho trollato io Francescone guardate ancora il sangue nella mia auto madre mia piano no 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 oh come l'ho recuperata madre di dio quasi bug un po' la macchina sono quei ferri che pensavo che erano invisibili regà ma tocchi cavolo stiamo a perdere però eh guardate scherza trolla non trolla stiamo a perdere di brutto che abbiamo fatto il panino qua il sandwich costese no 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 sta andando a sbombino no 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 qua si mette male la situation e le va e le va vabbè ok oh no no chi è qua via 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 la doveva consegnare sempre la quindi giù andiamo giù di qua oh 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 ok ma l'hanno trovata al suino poeta non lo vedo vabbè io ho consegnato regà 3 5 a 3 ah stiamo a perdere ma l'hanno a fare la guerra aspetta 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 che qua faccio il disastro eh adesso gli rubo una macchina aspetta se riusciamo se riusciamo a rubare una macchina regà sarebbe epico eh eh alto Paolo ha rubato la macchina alto Paolo veni qua alto Paolo dai è scappato mannaggia vuole rubarti la macchina eh eh dai ha consegnato ti suini ma che che i su niente regà abbiamo perso abbiamo perso però dai abbiamo cazzeggiato abbastanza eh proprio niente regà spero che questo video vi sia piaciuto lasciate tanti like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video bella regà